La nostra presenza quest'anno alla Design Week è nel tema dello zen. L'ispirazione deriva dallo zenbook, il nostro ultrabook di ultima generazione e in particolare che si esprime nel tema concentrico proprio della cover. Il cerchio rappresenta infatti nella filosofia zen l'universo ma anche la perfezione, l'equilibrio, l'armonia fra gli elementi e non a caso appunto questa soluzione, lo zenbook, così come le tante presentate in anteprima durante questa occasione rappresentano tutte delle soluzioni perfette, un equilibrio perfetto di elementi per rispondere ad esigenze di un pubblico e di utilizzo estremamente variegato. Ciascuno appunto con una perfetta combinazione di elementi per poter andare a soddisfare al meglio l'esigenza a cui è progettata. Il tema concentrico è ripreso dalla goccia che crea questi cerchi appunto sulla superficie d'acqua, evocativo del logo dell'evento che ci accompagna in tutti gli allestimenti e che rappresenta appunto l'elemento davvero di congiunzione di tutte le diverse proposte. Abbiamo già detto dello zenbook, ricordiamo ancora il padfon e da ultimo la nuova generazione di transformer pad infinity, tutti caratterizzati appunto da questo segno tangibile di elemento materico e grafico.